Più che un azzeramento si è trasformato nel vero e proprio conto alla rovescia quello in corso al comune di Sciacca all'interno della giunta guidata da Francesca Valenti. Dopo le dimissioni di ieri presentate prima di pranzo da Gioacchino Settecasi, oggi a lasciare la propria poltrona, sono stati prima Giuseppe Neri, poi Annalisa Longi. Nella sua lettera di dimissioni indirizzata a Francesca Valenti, Neri non nasconde la propria delusione nei confronti di ciò che definisce un modo di fare politica che non condivido e che mi preoccupa dal momento che l'azione amministrativa, aggiunge Neri, passa in secondo piano rispetto alle beghe e alle alchimie contorte di chi ha sostenuto e sosterrà la tua giunta che spero ricostituirà in tempi brevi. Ancora, l'ormai ex assessore dice di avere perduto l'entusiasmo che lo aveva portato ad accettare l'incarico in seguito alle molteplici vicende che, osserva, hanno visto spesso la giunta sola di fronte ad una città che chiedeva di continuo qualcosa che a volte non poteva dare per colpa degli strumenti inerti di cui disponeva. Poi Neri ricorda di essere entrato in giunta a seguito della morte dell'ingegnere Michele Buscarnera e di essere stato spinto dal sentimento di rispetto e reciproca stima con quel professionista, quasi rinfaccia infine Giuseppe Neri, di avere dovuto rinunciare per il suo nuovo ruolo di assessore ad una serie di incarichi professionali in alcuni comuni vicini dove svolgeva ruoli apicali incompatibili con la nuova funzione di amministratore. Una sorta di sacerdozio, così Neri definisce infine il suo impegno all'interno dell'amministrazione che lo ha costretto a trascurare tutto ciò che non riguardasse la vita pubblica. In conclusione tre assessori su cinque hanno accolto l'invito di Francesca Valenti a dimettersi, pare di aver capito che non lo faranno. Filippo Bellanca e Paolo Mandracchia, rispettivamente vice sindaco e assessore all'ambiente, dovrà essere Francesca Valenti evidentemente a provvedere all'arrevoca delle loro deleghe e questo sul piano simbolico sarà uno strappo indicativo di una condizione che va ben oltre all'amarezza personale indicata nero su bianco nelle lettere da sette casi a Neri. Come dire che il non fare qualcosa diventa alla fine più significativo che averla fatta. Manca poco ormai, dunque, alla conclusione del primo governo Valenti. È difficile capire quali possono essere le prospettive. Abbiamo già detto nei giorni scorsi che non sembra immaginabile una sostituzione tra esponenti di partito, ma tutto può succedere. Pare che il sindaco abbia già avuto delle interlocuzioni personali nel tentativo di coinvolgere soggetti del mondo delle professioni in un impegno in favore della collettività. Il Partito Democratico, con Michele Catanzaro, ha già fatto sapere di volere continuare a sostenere il sindaco. Sarebbe stato strano d'altronde il contrario, visto che da quegli ambienti che è nata la candidatura di Francesca Valenti, sta di fatto che dopo l'esperienza di Vito Bono, il centro-sinistra, ancora una volta, sta palesando grosse difficoltà nel mantenere gli equilibri che una coalizione è chiamata ad assumere. Adesso l'auspicio può essere soltanto quello che si faccia presto nel completare la verifica e la nomina della nuova giunta, perché la città ha urgente bisogno di un assetto politico che sia chiaro e definito. Poi si aprirà la fase del dibattito politico, ma quello appartiene alla normalissima dialettica. La verifica che comunque era già nell'aria, no? E quindi quella si sta facendo. Sono delle ore in cui si sta lavorando e avremo poi, certamente, tutto questo avrà un esito. Lei, posso chiederle soltanto se ha chiesto agli assessori di essere loro a fare un passo indietro? Sì, stamattina ho chiesto agli assessori le dimissioni, perché l'ho ritenuto un passaggio giusto nei loro confronti. non è un discorso che riguarda le persone e quindi mi è sembrato corretto.